bella a tutti ragazzi sono tubemaster iniziamo questa splendida live che non so quanto durerà ma da ogni modo intanto aspettiamo che entra gente così vediamo se c'è qualche torneo libero oddio c'è 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 andiamoci a fare questo torneo andiamo col fantasma royale ragazzi questo è un torneo non l'ho creato io ci sono entrato era libero alle 10 fai live va bene quindi non stai con me quindi per tutta la live va bene programmer spargi voce a qualche tuo amico e dici di entrare in live tranquillamente spargiate voce ragazzi mi raccomando sarà una bellissima live oggi ci divertiremo tanto staremo in compagnia non so se finisco prima di te sì ok vabbè tu comunque fai entrare gente io finisco quando mi va praticamente non ho un orario stabilito come si sol dire quando mi sono mi stanco io chiudo la live dimmi che non mi butti il razzo ti prego non mi buttare il razzo non mi buttare il razzo dai 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 ma perché non riesci mai ad entrerci mio cavaliere ok che lo sapevo io lo sapevo Questo mi vuole fare la torre così No 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 Vai Vai fantasmino Vai fantasmino Non me deludere Vai in torre Vai in torre fantasmino Vai fantasmino Ma perché non mi devi fare giocare il mio fantasmino Vai sì Dai perché non entri in torre Dio santo Raga mi sta facendo sudare Questo giocatore Comunque No 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 fantasmino In difesa Può essere alcune volte può essere utile Fidatevi Solo che è un po' una Levando il minatore è un po' una rottura di palle Dai fantasmino Dai fantasmino ti prego Dai Dai così dai così Vai così G per noi raga G per noi Comunque raga ripeto È un torneo che ho trovato così Non è Non è mio questo torneo Non l'ho fatto io È tanto per vincere le carte Termina tra 41 minuti Esattamente Se mi trova l'avversario Ok Vediamo il nostro avversario come comincia Mettiamo un buon barolo qua Facciamo così Facciamo così Facciamo Così e così La mia giocata Doveva essere un'altra Però vabbè Diamo il tempo di entrare a tutti In live Il nostro fantasmino Andiamo a zappare qua Non ho zappato in tempo Non ho zappato in tempo Però forse È così Si Calcolato tutto Alla perfezione 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 Nei commenti Ad entrare qualche tuo amico Mi raccomando Guida gente Ad entrare Alla perfezione Fai entrare Alla perfezione C'è gente C'è gente C'è gente live Vai così Vai così Vai così Vai così Questo qua Questo qua Questo così No raga È un'altra perfezione Non si infama Non si infama Devo capire L'ho chiamato L'ho chiamato Entra con un profilo Entra con un profilo solo Siamo pochi Siamo pochi L'ho chiamato Che è una partita Che è una partita persa Non posso dire che è vinta la partita Però ci posso provare Assolutamente Ci posso provare A vincerla Se non mi metterò Stregone Dietro No minchia picciotti Ma perché io le cose Me le chiamo Perché mi chiamo le cose Dico io Cattivo 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 Mamma mia che bello Mi sta facendo sudare Sette camicie No minchia Lo sapevo che mi mettevi Lo stregone di dietro Porca miseria A te Il latte al caffè Cos'è che la nintendo Sta facendo uscire Un cellulare Che ti fa modi gameboy Che puoi giocare con Clash 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 Royale Clash Royale Sì Questo è il mio canale Che pubblico I miei video E dei tornei Da 100 e 500 Marco oggi Facciamo un video Che ne parliamo Ok? Comunque si vede bene Ok perfetto E l'unica cosa Dovete Spargere un po' di voce Ragazzi Già mi spiego meglio Fate entrare Gente sul canno Termina tra mezz'ora Ragazzi La potrei fare Termina tra mezz'ora Vediamo se riesca a risalire Primo No minchia No 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 Lo devi fare questo Ma perché No Adesso non si gira più Vai così Vai così Vai così Sì Vai così Vai così che è perfetto Vai così che è perfetto Sì Raga Sarebbe assurdo vincere contro sto qua Il più forte Vai così Raga vai così Che benessere Che benessere Che benessere Che benessere Che benessere Ciao Gino Ciao salvu Vediamo È un po' Grazie Ha fatto eh lo so non mi è toccato ancora d'orre ma io non ho il moschettiero al sette vai fantasma vabbè ragazzi è arreso non è che c'è tanto da capirlo mi sarà arreso secondo me ma che vuoi fare 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 vattene a casa e mi dai i tuoi bei trofei vattene a casa manco la torre mi hai fatto vattene a casa ragazzi sale di trofei mamma mia quasi 40 trofei non so se riesco a finirlo tra 26 minuti come sono messo di postazione credo che domani puoi partecipare a un torneo da cento posti vedi con cento posti quanti già mi servono eh giuli qua qua una buona notte anche a te allora dovrei battere anche questo qua c'è rottura di coglioni cento gem allora potevi viaggiare come si suol dire non ci minchia l'hai messo dopo quanto ci godo grazie grazie ragazzi ragazzi vinco anche questo si va a comandare che cazzo l'hai messo non l'hai visto no piccio io non posso dividermi in due lo difendo uno o difendo l'altro beh qua faccio così e gli metto questo qua per forza non posso dividermi in 48 pezzi eh ma compa male le sire da dove ti esce no tanto per essere informato vai così vai così raga dobbiamo tenere stringere i denti per un po' ok questo facciamo così lo lasciamo perdere e ragazzi abbiamo vinto contro il il primo o no 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 tre due uno ok raga ragazzi mi sono visto perso eh tu ridi intanto io mi prendo i 2.34 trofei e sono in classifica secondo mi spunta Leo mi ammazzo mi spunta Leo se non è guai raga dimmi che non è Leo ok e chi lo sa cento gemme dunque ragazzi entrate in live mi raccomando grazie a tutti ragazzi ragazzi entrate in live seo fai entrare persone in live ti prego che siamo pochi questa volta non mi freghi sì sì tranquillo non ti preoccupare più che altro devi fare mi fa entrare gente in live non c'è nessuno raga non mi fate piangere vi prego io inizio la live per voi vai con i barbari dai allora raga sto facendo un rischio ma un rischio ma un rischio ecco ecco qual era il rischio non si no no raga invece vi devo dire è tutto calcolato perché lui ora mi mette questo e non si trova più niente e come si difende da tutta sta roba con l'ora dei scheletri no raga ha perso non c'è sta niente da fa per me ha perso cioè ma ha perso di brutto dai raga ma siamo troppo forti comunque se lo fai entrare gente in live mi raccomando raga siamo troppo forti troppo forti 151 oddio ci stacchiamo di poco con Leo comunque con Leo ci stacchiamo di poco davvero davvero poco cosa è manco si deve con tutta sta lebbia che stacchiamo Grazie. Ho seduto seriamente sprecato la palla di fuoco per un solo barbaro con meno tipo di metà vita. Spera perché la situazione va degenerando. Bella giocata, grazie. 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 Oh, al cento di vita l'hai lasciato. No, ci vuole un miracolo per te. Non mi potrei mai ribaltare la partita. Come cazzo fai a ribaltarmi la partita? Ci vorrebbe un miracolo. Cento di vita. Ui, lega. Eschere, 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 eschere. Più 28 trofei. No, Leo, minchia no, Leo. Non puoi farmi questo, Leo. 179. Che c'è? 179. Va, te sono in live. È diversa la cosa. Ciao. Ti vedo. Mi posso far vedere, ma mi scoccia perché nel gioco non ha senso. Facciamo così. Facciamo così. Io non ci posso più giocare. Io ho trovato il corso della leggenda che è nuova. Qual è? Il fantasma. Non ci posso più giocare. Minchia il pecca. Sto facendo un torneo e mi levo tipo pochi punti con il primo, in classifica. Pazzarola. Inizia con tre ammazzate e ti ammazzò. Adoro, è praticamente una sorta. Adoro, non ci posso più giocare. Perché praticamente non mi fa entrare per fare l'aggiornamento. Io non ho spazio per l'aggiornamento e quindi... Non puoi fare l'aggiornamento? Perché? Non ho spazio. E non te lo fa aggiornare? Continua. No, ti stai... Minchia, mi hai fatto buttare la scarica a mu... Guarda, la prendo e ti faccio vedere. Vabbè, no, ti credo. Io mi sto... Mi sto giocando per essere prima in classifica e tu mi fai sparare le carte a mu... Ma non lo direi il mio nome. Ragazzo. Basta, basta. Ma si può perdere la torre? Sto usando solo il pecca. Dico io, ma... Ma signore mio. Vaffanculo. Ma vaffanculo, vero? No, guarda, che sto... No, ma ti dite la colma prima. I piedi dritti. Ma, statti ferma, Dori. Io sto studiando 48 camicie per vincere. Ah, no. No, sta. Non canto vittoria. Cioè, ti sapevo... Ah, ecco. Dori. Che ho vissi? Si è aggiornato solo. Si è aggiornò? Mmh. Vero? Vero. E ci sta intanto? Ah, me lo vuoi fare tu? No, Dori, io sono in live. Stacco stasera. E non mi puoi giocare? E io parlo con le persone. Sì, con questa... Quante persone ci sono? Per il momento pochi siamo. Vai! Minchia, un colpo devi dare fra. No, minchia, non ci credo. Ho perso. Minchia, se tutto va bene, sono seconda in classifica. Minchia, meno 40 trofei. Può disarricchire. No, minchia, assolutamente, sono sceso. Minchia, meno 40 trofei. Può disarricchire. No, minchia, assolutamente, sono sceso. Sono quarto, raga. Sono quarto, raga. Vai così, vai così, G per noi. Vai, vai, vai. Vai così. C'è che è giocata proprio spettacolare, raga. Vai così, G per noi. Vai, vai, vai. Vai così. C'è che è giocata proprio spettacolare, raga. La grafica è bellissima. Ci vediamo, vabbè. La grafica è bellissima. Allora, benvenuti. Ecco, è un po' tipo Lolita. Per tutti i giorni. Molto. Com'è, è strano. Sì, per colorazione. Devo dire, non volate come abbiamo messo queste tinte, perché ho una parte grande. Dori. No, lo so, dico, sono in live, vuoi pure dire qualcos'altro? Ciao. I love you. Si è arreso, questo stupido si è arreso. Ciao, ciao. C'è Giovanni. Sì, lo so. Mi segue. Io c'è Giovanni. Te l'ho salutato, ora non è in online. Però no. Hai fame? Ma attacchiamo, tanto la torre che me la devo difendere a fare. Ma che cosa dobbiamo fare? No, Dori, non lo caricare là. Non si può caricare. No, non vuole, mamma. Non si può caricare. Devi caricarlo là dentro per forza. Oppure in cucina. Mettiti dove vuoi, ma non si può caricare là. Perché dice che c'è la cosa collegata col computer. Manco io lo carico là. No, raga, ci ha dato pochi trofei. Minchia, questo qua ha zero trofei. Che cosa... Che ci deve dare mai? Sto qua ha zero trofei. Beh va. Io vado così, l'ho capito. Raga, entrate in live. Vi state perdendo delle cose spettacolari, raga. Fai collaborazione con programmer? Eh, anchia comunque. Lo aiuto un po', sì, sì, sì. In un certo senso, comunque. Comunque se dipende alle persone che io vedo più attive. Quando io faccio le mie live, lo faccio moderatore. Però le faccio per la gente più attiva che c'è. La facciamo moderatrice. Ivan, ce la fai a far entrare un po' di gente? Posso contare su di te? Mettia le frecce, le frecce, le frecce. Che qua ci fa la torre num... Marte d'occhio. Ho attivato anche la campanella. Ok, Ivan. Posso contare su di te per far entrare un po' di gente? Adesso è live. Ma che ridi? Che stai perdendo? Ah, perché ho messo la veleno? Ok, sì, ho capito tutto. Minchia, di nuovo me l'ha messo. Dovevo mettere proprio... No, non è qua, zio. No, devi stare qua nel divano. 17 trofei. Sì, ma così come cazzo salgo? Provo a battere a Leo. Comunque mancano tre iscritti e vai a 100. Eh sì. Se arriva entro domani si fa live. Tutto il giorno. Ciao. Do. Sì, sì. Sono contento di questo traguardo comunque. Che ne pensi dell'app? Ti piace? Non è buona l'app. Si dico, si vede male il video, dico. Oppure si vede bene. Si vede sfogato, ma tanto, tanto. Non si riesce a vedere le carte, dico. È un'app che avevo trovato così, diciamo. No, così. Ne ho presa come... Che quella, l'altra app di prima, non funzionava bene. Ho avuto dei problemi. Quindi ho deciso di scaricare questa. D'altronde è l'unica app che mi dà la possibilità di vedere le persone che sono online. E anche di... Di vedere... No, minchia. Gran cavaliere. Che ti devo dire? L'hai vinto. Ho capito. Non so che fare, sinceramente. Ho anche perso contro questo qua. Che mi ha fatto scendere, porca miseria. Che mi ha fatto scendere. Allora comunque vabbè lo sapete 2534 è l'originale Delle torri E non so perché si veda Non si vede La torre come si suol dire E io ho cercato di Di accontentarvi Perché mi chiedevate tutti Vogliamo un po' di live di qua di là Cercate un po' di accontentarvi Io il computer non è che lo posso usare Quindi è anche per questo Sì è per le live questa app Nasce per le live Che posso fare se si vede E' brutto raga Io non ne conosco altre app Consigliatemi voi Casomai la installo Consigliatemi voi altre app Io non ne conosco Giuro davvero Scrivetemelo voi nei commenti Se conoscete qualche app E' buona Intanto siamo a due spettatori Ragazzi se la situazione Continua così Stacchiamo la live Perché siamo pochi Se continuiamo di sto passo Stacco la live Perché se siamo così pochi Non ha senso che Continuiamo la live Ditemelo voi Che cosa volete che faccio Stacco la live Stacco la live Stacco la live Comunque su 38 persone decimo è buono Aspetta ragata fatemene vedere la live Vediamo com'è Comunque su 38 persone decimo è buono Eh si ho capito tutto Vediamo No raga non è poi tanto male Diciamo si vede bene la live Vi raccomando ve lo dico sempre Seguitemi sui social Sui miei social Qua mi scrivo Mi scrive mio papà Ok Comunque io l'ho vista ora Si vede bene raga Si vede assolutamente Cioè per me si vede bene Che fa raga raga Continuiamo la live o la stacco Non c'è nessuno Potremmo Potremmo aprirci questo baule ma Da quattro carte Così Defoso che vede bene né Non c'è nessuno Grazie. Raga, ditemi voi, continuiamo la live o stacchiamo? Siete solo due spettatori, comunque. Intanto io controllo gli iscritti, decidete voi cosa volete fare. Siamo a 97 iscritti, perfetto. Raga, troviamo sto baura, sto schifo, anzi facciamo una cosa ragazzi, facciamo una cosa ragazzi, facciamo questa bella sfida leggendaria. No, io vi dico, io andrei con quella, io andrei con quella da 10 gemme taglierà. Tanto ormai le leggendarie le ho tutte, quindi le gemme poi a questo punto non mi servono più. Facciamo così. Minchia, al 2 ce l'hai, non ci posso credere. Cioè fai schifo che l'hai al 2. Lo schifo più totale. Raga, ho iniziato la sfida da 10 gemme, dai. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 12 vittorie. Facciamo sta sfida da 10 gemme e poi si stacca la live, raga. Facciamo sta sfida da 10 gemme e si stacca la live. Facciamo sta sfida da 10 gemme e si stacca la live. Facciamo sta sfida da 10 gemme e si stacca la via. Aba la budgets. Facciamo sta sfida da 10 gemme. Ok Ok raga vinto Fai due video con programme È in live Aspetta un minuto Non ho l'amicizia con lui Deve mandarmi l'amicizia su facebook Yo Su youtube Ciao rai Bella grazie di esserci in live Stavamo facendo la sfida a 10 Gem Fai entrare qualche tuo amico se vuoi Bella rai Iscriviti al canale Rai Spargivocia 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 Grazie. 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 Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Andiamo da programmer. Programmer. Ok, ragazzi. Andiamo da programmer. Ogni ragazzi. Andiamo da programmer. Programmer. Ogni ragazzi. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Facciamo due di due. Ecco, mi devono rompere le polli. Ok. Ecco, mi devono rompere le polli. Ecco, mi devono rompere le polli. Perché, sinceramente, non entra nessuno. Quindi, la live di oggi finisce qua, di stasera. E niente, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima. Dal vostro tubo master. Ciao, ragazzi.